Il ventilatore va, il ventilatore va, il ventilatore va, 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 ma va dove? Konami! Eccoci qua, bentornati nel canale delle burne ragazzi, scusate per l'intro un po' svarionante, ma fa molto caldo, oddio, oddio, stamattina era anche freschetto perché deve avere piovuto stanotte, però ho riacceso il ventilatore, adesso sono a casa, davanti alla TV per fare l'aggiornamento di oggi. Volevo innanzitutto salutare Tuffamix Petroni Otea, Pes Zoso, che è in 1988, lo dovete seguire però su Twitch perché vi fa le live su Twitch, SmokinBiaco86 e Chris Martin, StefanoFerrariDJ, sempre su Twitch, AlessandroGamer, AlonsoGreyFox, UrbexIlToscano, SatoruSayama e basta, per quanto riguarda i videogiochi sono questi qua. Poi, per altri contenuti, potete sempre guardare nel mio canale, sotto canali, Alessandro Del Monte, AlexBluGirl, Francesco Petucco e Dr.DumisChannel. E poi volevo ringraziare tutte le persone che commentano i miei video e comunque mi seguono, mi supportano e lasciano il mi piace, mi scrivono bei commenti, abbiamo un confronto sulle varie tematiche dei videogiochi e anche altro. Eccoci qua, è Football 2022, entriamo, premi X, farà l'aggiornamento live. Non so esattamente a che ora hanno fatto l'aggiornamento perché non ho guardato, però visto che alle 9 non c'era perché ho anche il mobile e da mobile mi diceva che il server era ancora in manutenzione. Quindi, boh, non so che ora si è sbloccato, hanno finito con l'aggiornamento. Vediamo le novità di quest'oggi, giovedì 7 luglio. Dovrebbe partire la seconda fase dell'Open Championship. Chissà che legali ci daranno in questa nuova settimana. Ok, bonus accesso, io ne ho dei punti football. Allora, ci hanno regalato un special login campaign volume 3 Madrid, un giro nel Madrid, nel Real Madrid. Ok, quindi tutto qua. Vabbè, però forse il login. Allora, notizia, vediamo notizia. Hanno messo questo, a seguire un elenco dei problemi. Guardando le carte dei giocatori nel Football World, la mia squadra, quando si possiedono vari giocatori con design differenti della carta, Gli effetti di Lucicchio sulla carta potrebbero non apparire. Cioè, Lucicchio se... vabbè, non dico più niente. Qua c'è speciale login e bonus d'accesso. Ok. Preso. Boh, abbiamo anche sbloccato un qualcosa. Ah, c'è il tiro qui. Ma fammi vedere, scusa, le notizie. Dove sono le notizie? Saranno sotto qua. Allora, aspetta, qua. Sì, sono due Underworld. Vi presentiamo gli obiettivi premium. Ma riesci a me a me? Ma forse ogni giorno ci danno un giro. Probabilmente. Perché non hanno riportato la notizia? Dettagli. I giocatori leggendari. 5 stelle, 15, 34, 105, 3 stelle, notte. Ah, io penso che... Visto che è una login, sarà ogni giorno. Vabbè, facciamo questo giro gratis. E vediamo cosa viene fuori. E avrò diviso. 3 stelle, tanti saluti. Chi è sto... Sto giocatorone? Ah, mi ha dato sensi. Sensi, mio ragazzo. Non lo ricordate? Ma... Ma, 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 ma. Ah, 6 inesimi, mi ha dato. Non ho sensi. Magari sensi. Ah, deve essere un campione questo. Il dettaglio del giocatore. Contro attacco a 50. Vabbè, ragazzi. Questo faccio direttamente così. Allora, 1.500 GP e 1.000 punti ESP. Ciao. Addia. Vabbè, ci ha dato quella cosa da... Vabbè, sarà ogni giorno. Non ho tanti GP, ne ho 201.000. 200 monete. E tantissimi punti a football. Ma, punti a football hanno aggiornato qualcosa? Ho proprio zero. Non mi sa di no. Vabbè, oggetti, non frega niente. Giocatori. Stons, Diaz, l'ho preso. Rosselso, Iago Aspa, l'Architi. C'è, gli Aspa di qui. No, sono sempre quelli... Sì, tra i 97 giorni. Questi 360, cioè, questi ci sono. E gli oggetti, niente. Ci sono sempre gli stessi. L'esperienza e il rinnovo del contratto. E basta. Ne ho 30.950, di punti a football. Vabbè. Ah, vediamo se ne ho in scadenza. Come si fa a vedere se ne ho in scadenza? Forse qua. Dettagli, ecco qua. 30.000. Ne ho 1.550, tra 55 giorni. Vabbè, insomma. Un mese e mezzo. Quindi, niente. Vabbè, tutto qua, insomma. Ci hanno regalato questo giro. Poi, vediamo. Ah, vi faccio vedere, intanto, i miei risultati. Qualcosa si è smosso, eh, ragazzi. Non... E poi, vedere se ritorno in terza. Prima che finisca questa seconda stagione. Sintesi partite. Divisioni. Qua, vinto 2-1. 4-1. E... La prima che ho provato a ritornare in divisione 4, ho perso 2-0. Ma perché ho sbagliato la... Avevo sbagliato la squadra. Ho giocato con quella più scarsa. E quindi, lui aveva 2.6. Di forza squadra, io avevo 2.4. Quindi, ho perso 2-0. Poi, il World Wide l'ho finito. L'ho detto 5-0. 2-1. E 3-0. E qua, avevo perso. Vabbè. Scusa, scusa. Un giro gratuito al giorno. Perché se c'è scritto... Che è un regalo. Login campaign. Vuol dire che adesso per una settimana ci danno ogni volta da girare. Uno a gratis. Chissà che non mi casca un'altra leggenda in questa settimana. Speriamo. E... Poi, le partite. Authentic. Non c'è niente. C'è solo la partita di prova. Squadra dei sogni. Il Dream Team. Ah, c'è la seconda parte. C'è il campionato del football. Poi hanno aggiunto, logicamente, questo. Vedete? Hanno messo un World Wide nuovo. Questo l'ho fatto. L'European. Questo l'ho fatto. E c'è questo qua che scade tra quattro giorni. Le foto c'è. Entriamo. Dettagli. Allora, ti diamo il benvenuto. Tipo di squadra, squadra. Evento sfida. Dal 7 al 12. Connessione e completamento. Punti minimi 3. Numero massimo di partita è 5. Devi fare una vittoria. Condizione fisso. Premi. Prima volta. Ma bisogna fare solo una partita, scusa. Round 2. Discrizione e metti. Diamo il benvenuto. Round 2 del football champion. La squadra della partita è l'evento. La squadra della partita è l'evento. Tipo di squadra. L'evento è l'evento. La setta è l'evento della partita. Ah, 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 ah. Punti minimi 3. Una vittoria. Condizione fisso. Premi. 1.000 punti in football. Alla seconda volta 100. Ma bisogna giocare solo una partita. Oh. Una partita bisogna vincere una partita. Praticamente. Basta. Mi fa strano, scusa. Entra un attimo. No, perché no. Non credo che sia una partita solo. Non si parlava. No, messaggio di nuovo. Non si parlava di tipo 15 partite. No. Condizione completamente. Punti minimi 3. Cioè, e hai? Progressi 1 di 5. In 5 partite devi fare una vittoria. O ce la giochiamo, ragazzi, dai. Riporto questa partita. No, ho sbagliato squadra. Aspetta che ho già sbagliato squadra. Schiava di gioco. Che non gioco di nuovo con questa qua. Ah, qua mi sono preso Malinowski, ragazzi. E l'ho messo al trequartista nella squadra La più scarsa che ho, insomma. Dove ci sono questi giocatori qua. Che palle questi messaggi. E qua. No, qua. Il link a schema di gioco. Perché ne ho 3. Vedete, ho quella da 2.300. Quella da 2.400. 100 punti in più. E questa qua che è la mia squadra più forte. Vedete, Neymar, Benzema, Chiesa, De Jong, Viera, Pirlo. Pirlo l'ho livellato, fa 95. E Hernandez, De Litt, Marchinho, se cansello. Livellati. Neymar, Benzema e Pirlo. E in panchina no, non ne ho dei livellati. Mi sono preso Son Yu Ming. Non so se ve l'avevo già detto. E questi qua mi sono portato. Ok, proviamo a vedere chi ci becca. Vediamo se riusciamo a completarlo subito. Forza Scuola 2620 è ritornata all'Associazione Calcio e Burnea. Delle Burnea. Sto Sonar. Potevano cambiare però. Vabbè, 4 attacche però non 5. Di connessione. Potevo saltare. Mi ha trovato uno molto forte, mi sa. 2634. Ha una forza squadra più alta. Chissà chi mi abbia trovato. Uno croccante, sicuro. Con la maglietta dell'Inter. Lascerei così. Lui è Virgil. Virgil van Dijk in difesa. Vediamo come gioca lui. Lui gioca così. Però ha due punte e una seconda punta. Sì, vabbè, però. Vedete, questa cosa qui. Cioè, questo li ha tutti livellati. Vedete che è l'Ucicchio? Li ha tutti livellati. Cioè, prendono una lumba. Vabbè, 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 vediamo come stanno. Ah, perché qua sono tutti con la freccia normale, mi pare. L'unica cosa che voglio fare è mettere le tattiche individuali, che è il difensivo a Cansello, il difensivo a Viera A e il contropiede non a Benzema, ma a Neymar. Marcature non le metto, perché non altre quartista. Secondo me prendono la lumba. Comunque, ce la giochiamo. Vista la squadra che ha. Cioè, tutti livellati. Io non li ho tutti livellati. No, vediamo. Logico che se uno scioppa e si prende i giocatori e anche li livella, cioè, io, magari si è preso gli obiettivi premium con 50 milioni di allenatori, capito? Come fanno? Cioè, io, non ho, non ho tutta sta roba. Vabbè, noi ce la giochiamo con calma. Vabbè, bravo. Lo sapevo che sbagliarono, guarda. Non so perché, ma me lo sentivo. Cioè, mi ha anticipato. Come cazzo ha fatto? Ma come ha fatto a anticiparmi? Scusa, sul passaggio là. Volta a buttar su, via, dai. Qua non andiamo più fuori dall'aria. Ma, guarda dove che l'ha passata. Eccolo là, l'1-0. E lo sapevo, e lo sapevo. Cioè, non esci più dall'area di rigore, capito? È appena cominciata la partita. Non esco più dall'area di rigore. Cioè, lasciamo perdere, no? Dai, Benzema. Dai, Benzema, ho detto. Ma genastra si tira. Ok. 1-1. Sì, ma fuori gioco, no? Dai, gliela allunga, là. Ah, per cazzo. Sì, vabbè, tutti di salta. Dai, ma che cazzo. Mi ha assaltati tutti. Visto comunque con quel passaggio, la Sensational Shot. Doviamo fare così. Tiriamo la Sassata in mezzo. Uh, bravo questo, eh. Federico. Che cavolo di cavolo ha fatto? Bello. Lo riguarderei anche, è che li salterà. Bello questo, bello, bello. No, peccato. Vierà, vi è la di testa, ci provano, va. Vanna via la. Paolo dai fammi battere la punizione normale 33 metri provo io con più così peccato devo girare là di più torno indietro più quando divierà poi Africa mamma mia felice dai lunga per me dai ma l'ho capito cazzo dai tornate giù però Benzema magari se ti fai vedere dai ma perché non l'ha presa dai vai ma dai ma dai ma sei la c'è un minuto a un tempo ok 2-1 finito al primo tempo dura 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 no fuori gioco a fuori gioco non ha fischato al primo primo tempo ma se sei finito al primo tempo vabbè io mi metto tutti giù in difesa e pischia la fine poi ok primo tempo vediamo com'è andato al primo tempo non ho neanche visto le statistiche aspetta che le guardiamo 7-5 lui ha fatto un tiro in porta vabbè vabbè io terei la freccia giù visto che siamo in vantaggio no no ho sbagliato l'idalia era subito ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato me lo merito me lo merito perché ho sbagliato ho sbagliato non dovevo darla là dai che cazzo si però mi insulti in faccia c'è che due coglioni mi insulti in faccia cosa oh è veramente una rottura dei coglioni ma io ho premuto il pressing che non ho fatto niente ma dai ma che cazzo vabbè è logico guarda viera dove cazzo sta viera vanno a casa cominciano ad andare a casa dai che ci sei daniela così uuuuuh De Jong gran gol di De Jong questo ma l'avevo intercettato cazzo dai ma dai niente guarda a paleggiare guarda a paleggiare guarda a paleggiare sotto le gambe dai ma deve paleggiare ma che palle cioè segno mi paleggia dai ma cos'è sta cosa ma dai ho messo anche in difesa guarda guarda che larghi guarda lascio stare guarda perché non dico più un cazzo guarda non dico veramente più un cazzo c'è 3 a 3 guarda la squadra che è 6 volte più forte della mia l'attività per questo match era 72.306 se ti muovi Benzema di merda fallo è fallo che cazzo allora ieri ho segnato basta fare così così e così che gran gol di Pirlo no beccati il risultato va guarda che bello questo guardatelo non te lo guardi come mai faccio che cambia adesso va allora fammi vedere chi devo mettere tanto Benzema mi ha fatto cagare quindi metto Romalia centrocampo vanno bene difesa vabbè chiesa ma ha fatto un cazzo mi metto soldo e ci teniamo un cambio per dopo magari cambiare un centrocampista o un difensore niente questo gioca sempre con kick off glitch puttala via cazzo sta palla puttala via cazzo questo gioca solo di kick off glitch guarda guarda che roba no è andato per i cazzi suoi niente son chiuso son chiuso son chiuso son chiuso son chiuso deve fareggiare per forza dai che cazzo avevo fatto quei cambi cazzo dai di testa delitto bravissima metto la formazione difensiva bravissimo butta via butta via dagliela qua bravo dagliela lunga adesso ma cazzo cazzo però ragazzi che ha tirato una una scovassa niente non non riesco a fare un cazzo ragazzi mi ha chiuso dentro l'area di rigole me la vengo più fuori niente qua li facciamo tornare però non ho più gliela diamo la così ok dagliela di testa la bravo dagliela lunga bravissima dai giocan sai lo che sia veloce spacca la porta puttana merda allora facciamo due ricevitori e la mettiamo dentro tesa e tira una sbrega puttana lasciala andare è angolo se non ha tirato un po' di gioco un po' di gioco fallo, fallo ma non dovevi metterla, vaffanculo, 4 minuti del recupero, vaffanculo fioi sono tutti giù ma non qua si, 4 a 3 4 a 3 grande 11 a 9 basta, è finita, non c'è altro da fare, ricorda di lasciare 4 a 3 io pensavo di perdere, vediamo dov'era divisione 3, attuale 3 più alta 3, attuale 5 vabbè, vabbè, vabbè bella partita comunque niente, l'ho già fatto, round 2 è finita pensavo fosse più lungo ecco qua ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace iscrivetevi al canale delle Burnio un salutone a tutti prendiamoci qua i questo qui ok e qua ci sono dei obiettivi che ho sbloccato sui settimanali e ci sono altri 3.000 GP vi li faccio rivedere la squadra e poi vi saluto la mia squadra è questa ciao ciao